Antonio Gallo, la Chaminade si sta togliendo delle belle soddisfazioni su 5 gare, una persa 4 vinte, parliamo comunque di numeri buoni. Il campionato è ancora lungo, si può lavorare tanto, ma state facendo bene? Sì, quest'anno siamo partiti molto bene rispetto agli altri anni, ormai sono 5 anni che faccio questo campionato, so quando sia difficile, squadre veramente forte e organizzate. Fortuna che siamo partiti bene e speriamo di raggiungere il nostro obiettivo, che è sicuramente quello di vincere il campionato. Ecco, ci sono squadre anche tanto ostiche, l'Arcadia Termoli era una bella squadra, vi ha dato del filo da torcere, non era una partita semplice, la Chaminade ha iniziato in maniera forse un po' troppo lenta, però poi ha dato vita a una buona prova. Esatto, siamo partiti di svantaggio, con due gol di svantaggio, siamo stati bravi a portarci sul pareggio e a ribaltarla, intanto molta aggressività attaccandoli dal primo all'ultimo minuto e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Invece sul campionato in generale, hai già conosciuto un po' le altre squadre, quindi che cosa ti senti di dire? Ripeto, il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato, sappiamo che è molto ostico, sono tutte squadre organizzate, anche quelle che si trovano ai bassi fondi, diciamo, bassa classifica. Diamo tutto e speriamo di vincere tutte le partite. Una squadra che sta facendo bene, ha dimostrato anche di aver trovato la giusta intesa in campo, questo è molto importante per arrivare all'obiettivo finale, quello della vittoria del campionato, perché la società non si è mai nascosta. Esatto, quest'anno siamo un gruppo totalmente nuovo, sono cambiati molti volti, sono rimasti in pochi, però devo dire che il mister e due mister hanno messo un bel gruppo su un bel gruppo e si è amalgamato bene. Lavoriamo bene, ci alleniamo e diamo tutto. Diverse occasioni sfumate in questa partita, secondo te dove si può lavorare, che cosa si può fare in più? Sicuramente, come hai detto, troppi gol mangiati, quindi dobbiamo essere più cattivi sotto porta, sfruttare meglio le opportunità che creiamo e dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Ecco, proprio il cinismo sotto porta, mister Marsella aveva dichiarato anche nelle scorse interviste di voler vedere, di voler vedere un atteggiamento più grintoso, secondo te c'è stato questo in questa partita? Sì, sì, lo penso, lo penso anche perché, come hai detto, siamo andati sotto e siamo stati molto bravi a recuperarla, quindi c'è stato bel cinismo sotto porta, siamo stati cattivi, aggressivi.